CONGRATULAZIONI! 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 Bentornati su Dead by Daylight! Oggi andremo a fare delle normalissime, tranquillissime partite da Survivor. Tranquille mica tanto, perché sappiamo benissimo che giocare in solo Survivor è praticamente una condanna a morte. Sotto ai miei vecchi video più volte mi è stato chiesto di riportare i gameplay commentati su questo gioco. E voglio ringraziare questi vicini di casa che hanno espresso questo loro desiderio. Giochiamo nei panni di default Dwight. Esatto, la skin dei rank 20 che fanno esplodere i generatori e si nascondono sempre e comunque negli armadietti. Qualsiasi cosa accada, loro vivono dentro gli armadietti. Ma faremo anche di più. Andiamo un attimo a fare visita al nostro bellissimo account di Steam. Link in descrizione di questo video e nella home page del canale se volete contattarmi anche qui. E appunto per questo video andiamo a modificare il nostro nickname. Non è abbastanza, voglio qualcosa che a leggerlo sia divertente. Ti scappi un attimo la risata. Ma al tempo stesso ti deve far salire il cringe. The Locker is... My wife! Dwight Kuhn e Locker Chan. Storia d'amore, anime scolastico, stile Toradora. Dici che ci sto mettendo fin troppo impegno per fare sta puttanata. Dici bene, però... Se vuoi fare una cosa, falla bene. Per quanto cringe possa essere. Va, va che roba, stupendo. Ok, gamers, chissà se in una di queste partite capiterà Piramide Head, chissà. Chatanato, non è una bella cosa. Verso il potere. L'unica cosa bella del quarto anniversario dell'evento di DBD sono ste torce. Cioè te c'è Killkiller e fa la pernacchia. No. Va, 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 va. Puh, ma che cozzo! Cos'era? Volevo farglielo sbagliare, ma... A quanto pare... Madonna! Ma chi... Ok, proviamoci. No, è girata di spalle. Eh? Eh? Click, click con la torcia! È lui? È la Piramide d'Egitto? Nooo, vabbè. Sì, però, dai, cioè... Mi fate tutti beccare così. Guardalo, va, Piramide d'Egitto! Il faraone Stankamon! No, anzi, Imhotep. I-mo-te-p! 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 No! 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 Ah-ah! Dai, vieni Imo te Imo te Dove vuole? Ah, non mi vuole Sì No, no, no Claude Dai, Claude, ti prego Ti prego, Claude Dai, sono le Sono le ore morte e mezza Fottiti Sacrificio a Satana Giro, giro, tondo Casca il mondo Casca la terra Tutti giù per terra A salvarsi Sarà Claude Non mette la gente in prigione Però sto Piramide Va che lag Ma che succede Sta partita Ah, ecco In galera Vai Cosa? Dai 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 Ma cosa sta succedendo? Hello? Qualcuno Co Ma siamo seri? Questo gioco del cazzo Oddio, l'ho ciecato Attraverso il grano Stop Essendo un defaulted white Così devo fare, no? Così Così si gioca Madonna Madonna Ragazzi Madonna Che rush Fatte curare No C'è il killer C'è la coroncina Dell'evento La coroncina Del santo padre Ho visto una stella cadente Esprimiamo un desiderio Un'altra stella cadente Esprimiamo due desideri Che partita schifosa proprio Veramente Ah c'era lì Nia m1 per forza m1 per forza no ho sentito una ninna nanna si, porca puttana 3 di fila 3 di fila si, si si, si agile detardo e dai sempre qua eh ti prego basta Antres, basta sono stufo di schivare accette di continuo tutte le partite solo Antres dammi qualcosa di nuovo dammi un Oni dammi uno spirito dammi ora, guarda eh guarda inizia la partita senti la cazzo di ninna nanna nene nene oh vaffanculo va per cortesia oh grazie allora credo che qualcuno gli abbia tolto ruin non sono stato attento sai con me ce l'avevo dietro si ok ti cura eeeh oh Dio ci aveva i donna ci aveva i donna perfettamente precisa 99 di 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 E' incazzato, è fuori di testa completamente Purtroppo ragazzi non mi sono rimaste moltissime torce dell'evento del quarto anniversario E quelle che mi sono rimaste voglio conservarle per collezione E anche come ricordo di queste stupende partite Non ho fatto, non è successo nulla di eccezionale, di spettacolare in questi match Però mi sono divertito un casino e spero la stessa cosa pure voi Come spero si siano divertiti i miei compagni di squadra con il nickname che ho scelto per questo video Se c'è una cosa che ancora mi diverte di DBD è leggere in lobby i nickname che certa gente si mette Quello è una delle cose che ancora mi fa ridere di questo gioco A parte situazioni con bug, lag eccetera No Predict, il predict Eh ma ora mi prende, perché è la nurse Ringrazio di nuovo i vicini di casa che hanno voluto partite su DBD Ma con il commentary e con presente la mia brutta faccia Nel mese di agosto probabilmente pubblicherò ancora DBD Porterò ancora DBD Montaggi, gameplay ancora non so bene Se non avete visto l'ultimo montaggio che ho fatto su Dead by Daylight Andatevelo a vedere, ci sarà il link qua alla fine del video Comunque questa skin hanno voluto regalarmela dopo quel montaggio Quindi no, le Auric Cells non me le sono scioppate Cioè sì, le ho scioppate Ma con i soldi di uno di voi Gentilissimi come sempre Arigato mina-san Thank you E stay big